Farfalla volante Costruiamo una farfalla volante Ci servirà un cartoncino, due ricariche di una penna, filo delle perline e un bastoncino Piega in due il cartoncino e ritaglialo nella sagoma di una farfalla poi apri le due parti Incolla una parte, un pezzo di carta sagomato e disegnato con una farfalla Gira il cartoncino e applica la colla Prendi le ricariche e attaccale il cartoncino Ripiega a metà il cartoncino Taglia il pezzo delle ricariche che resta fuori La farfalla è pronta Prendi il bastoncino e fai sei taglietti Tre su un lato e tre dall'altro Con un ago fai passare il filo da due metri attraverso le ricariche Prima attraverso l'una, poi attraverso l'altra Annoda due perline ai due pezzi di filo che escono dalle ricariche Queste perline parano da maniglie Ora annoda gli altri due lati dei fili al bastoncino La farfalla volante è quasi pronta Ora attacca il bastoncino ad un chiodo con il filo Tira le perline una dopo l'altra tenendo il filo teso Riavvicinando le perline la farfalla scenderà grazie al suo stesso peso Questa è una farfalla proprio bella! Grazie Grazie a tutti